A preteso soldi da un automobilista che stava parcheggiando nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno tentando anche di aggredirlo dopo il rifiuto di dargli soldi e l'intenzione di chiamare i carabinieri. Ma l'anziano che stava per lasciare l'auto in sosta invece di lasciarsi intimidire ha subito chiamato i militari dell'arma. È stata infatti una chiamata al 112 a permettere ai carabinieri del comando provinciale di Salerno di arrestare un 31enne, un marocchino irregolare sul territorio nazionale per tentata estorsione e resistenza pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nell'area di sosta di Piazza Vittorio Veneto a Salerno dove anche nel passato si sono registrati diversi episodi di tentate estorsioni ed aggressioni ai danni di persone che si sono rifiutate di dare la mancia dopo aver parcheggiato l'auto. Il marocchino che ha tentato anche di mettersi in fuga quando è sopraggiunto a un'auto del radiomobile è stato fermato non senza difficoltà dopo l'intervento di due pattuglie dei carabinieri. L'uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Salerno. Per l'anziano solo un po' di spavento ma nessuna conseguenza fisica per l'aggressione e il ringraziamento da parte dei carabinieri per aver contribuito a stanare fenomeni come questi. Non è la prima volta che in città Salerno i carabinieri arrestano parcheggiatori abusivi. Negli ultimi tempi sono stati allontanati diversi soggetti soprattutto in zone in prossimità di Lidi e stabilimenti balneari della città di Salerno dalla zona Porto al Polo Nautico fino a giungere in via Alliende.